Che poi la classe cosa servirà? Come di solito faccio il medico, guarda, lo faccio anche adesso, dai. Io di solito sto... nei giochi così, roba come pistolero devastatore o roba del genere. Non so perché, ma me lo inveccinavo. Grazie! Signore del cinese, prima di darci il coronavirus, se metta pronto. E quindi cominciamo questa campagna male. Male! Faccio un pezzetto che è stichissimo. Non sentite il ritorno, spero, no? No, sono. Oh no, sono fuori dalla quarantena! Stanno usciti tutti. Andiamo. In realtà si può fare anche stealth, eh, ragazzi. E io ormai ho già sparato in testa uno. No, 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 mi attaccano, mi attaccano. Che cattivissimo. Ma c'era uno con la cosa da caso. Che cattivissimo questo! No, ma ho preso! Che cattivissimo com'è? No, no, guarda la cattività! Parca puttana, mi asciuggerò deve smerdato in faccia. Oh, non ci vedo niente. Prendi dai, tieni spinguto, tieni premuto dai. Come ti aiuto, come ti aiuto? No, guarda lì, sono diventato zombie! Eh, aspetta. Sì, che mi colpino, mi porto mezzo lì! Non sono io! Dovresti essere sano, adesso? Sparategli nel culo! No, sono morto! Perché? Tempo arriva dentro 30 spazi. Eh, senti, io ho rotto il coglione! Lo ho rotto il coglione! Allora, io schiaccio il pulsante e io butto la molotov dentro perché è pieno di zombie. Dai, io vado col fucile! No, l'ho fatto prima e se ne erano due. Oh, ma se gli piace dargli fuoco! Diamogli fuoco, diamogli fuoco! C'è un piromane o quel che l'è? Ma adesso ci facciamo male col fuoco? No, no. Come no, c'è scritto cura! Guarda che vi state bruciando, eh! No, sto bruciando! Vi state bruciando! Guarda che fico! Guardate nelle vostre case! Arrivano anche da sinistra! Occhio! Voi ho coltore da sinistra e sto qui a destra! Aiuto, che cazzo devo fare? Aiuto! Dovemo separare! Mi stanno spaccando la cragna! Tira giù la piramide all'in mezzo! Sennò non sono spragati! Mi ha fatto per me l'impatto! C'è gente anche da... Arrivano anche dalle scale di sopra, bastardi! Attenzione! Tirate lì di tutto, granate, bombe! Anche quello dietro! A sapere come cazzo si tira la... No, diventa il ca! Oh, mi ha preso, mi ha preso! Dietro di te! Eh, aspetta che ce ne sono tanti! O troppo! Ce ne sono fatti troppi, ragazzi! Via, via! Ci sto capin' cazzo! Tardi, zombie di merda! Tirate giù quella cazzo di piramide! Non c'ho più munizioni, cazzo, con nessuna arma! C'è, ci sono le delle armi, voglio prendere! Oddio! Vabbè, intanto tiro giù tutti quanti a macete! Signorino cinese, inizia a contagiare di virus questi zombie, per favore! No! Mi stanno contagiando loro, invece! Dovete morire! Eh, appunto! Aspettate! Guardate, non lo cuore, io non ce la faccio! No, ammazzare i zombie prima! Oh, ti ho curato, grandissimo! Grazie, ti ho curato, ma adesso sto a morire io! Dove sei? Dove sei? Dove sei? Poche me stanno a stupare! Poi ci stanno troppi zombie! Mi voglio curare, come si fa? Come mi curo! Ti mi prefuso la encro! Ti curo io, ti curo io! Prendete tutto quello che potete prendere di qua, perché tra un po' ci sarà un bel casino! Qua c'è uno che ho sentito un urlo! Che è che ti mena? Oh, aiutatemi! Come hai fatto? La tua cazza è uscita! Non lo so! E noi ci conviene stare sotto perché ci sono le casse o stiamo di sopra? Eh, bah, io sarei qua vicino alle casse piene di munizioni! Io mi chiudo dentro la macchina, cazzo i vostri! Ma che si può aprire? Hanno aperto le porte e stanno uscendo alla quarantena! Ho capito io! Guarda madonna! Questi sono di panda e dei panda! Non ci sono dei panda questi! Ma non dovrebbero morire se si buttano di panda! Lascia li fare! Oh, c'è gente da dietro, eh ragazzi! Mi stanno assopratti! No, ce n'era solo uno! Ah, merda! Devo pulire! Ma che è sto gas? Perché c'è il gas? C'è quello che abbiamo ucciso prima che è esploso! Ah, minchia! L'uomo! Chi è? Ce n'è uno dietro! Come sono arrivati questi da dietro? No, arrivano anche da dietro! Stardi! Porca troia! Dato cazzo arrivano! Sono caduti da sopra! Non so da dove! Eh, ho che che cadono dal piani alti! Ah! Comunque corpo a corpo come viene... Qualcunque There! Oh, è ilasenio! Ok, è ilasenio! No! È arrivato con l'assessione! Muerto! No, no, miei amici nooo! Come faccio a curarvi così? andiamo andiamo curate curate entrate nelle vostre case non ve lo rivediamo più c'è il bastardo grosso parla con il condicente non so come aiutare il mio amico qua senti che ci ha lamentato di come lavora e che a terra io non so che ho sparato una mega bomba non so come ma almeno sei un attimo non mi sentirete munizioni munizioni catroia bene forse sono esagerata ho trovato le munizioni oddio è pieno di gente aiuto 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 dietro dietro mi stanno ammazzando allora uno alla volta in fila nella metro si entra uno alla volta che cazzo sta intanto li perdi ah bisogna ammazzare quello che urla bisogna andare sopra ecco siamo caduti tutti siamo caduti no no siamo tutti a terra no oh ma sti zombie sono organizzatissimi ci hanno buttati a terra tutti insieme ma adesso mica dall'inizio no dai no penso dall'ultima volta del salvataggio in cui siamo enterati con tutta sta roba mi sa che non ci sono salvataggi hai perso hai perso abbiamo fatto un po' cagare comunque quindi ho dovuto no ma poi la cosa bella che io ho fatto il il sono scemo perché in realtà cerco di fare gli headshot non so mai nel perché di sta cosa la prima cosa che sto riuscita a fare bene sono le esplosioni e il macellaio allora io cambio classe per questo cazzo di sterminatore mi sta sulle balle allora prendendo il pistolero io ho visto colmaggio no io lascio io lo scego cos'è che cos'è che hai fatto prima te io il medico cos'è che avete fatto io ero sterminatore 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 ora voglio provare il devastatore che dice che è bravo allora io faccio il pistolero va là tanto abbiamo visto che come medico faccio cacare non servono i medici un cambiancazzo no ho notato perché l'unica volta che ho curato sei morto ugualmente sei trasformato in zombie sì sì